Ciao e benvenuto in questa nuova puntata di OSOS Genitori. Sono Marco Catania e oggi parleremo di un tema molto caldo nell'ambito dell'età evolutiva, ovvero l'ansia per il Covid, o più nello specifico come gestire l'ansia per il Covid dei miei figli. Chiaramente parliamo di bambini in età di scuola della primaria, fondamentalmente o dell'infanzia o della secondaria di primo grado, quindi in una fascia ancora bambini, ragazzini. Ci sono due strade da tenere in considerazione. La prima è quella in cui è il genitore che in questo momento sta sperimentando un alto livello di ansia nei confronti del Covid o in generale della situazione che stiamo affrontando, il che sarebbe assolutamente comprensibile, ovviamente. Ma dobbiamo considerare che se il genitore è il primo ad essere nervoso o agitato, queste emozioni non nascono e muoiono dentro di noi, ma sono radioattive, permettetemi il termine, nel senso che le emozioni che proviamo vengono percepite, recepite anche da chi ci sta intorno. Chiaramente, soprattutto nel caso dei bambini, andrà ad assorbirle. Questo avviene in modo più o meno esplicito, a volte in modo più implicito, ma in ogni caso avviene. Se proviamo delle forti emozioni, chi ci sta attorno le percepisce. Questo chiaramente non è solo il caso dell'ansia. Pensiamo a quando siamo arrabbiati o a quando siamo gioiosi, estasiati. Chi è attorno a noi se ne rende conto. Lo stesso vale quando proviamo emozioni come l'ansia o, più nello specifico, la paura in questo caso. Quindi, nel caso in cui sia il genitore a sperimentare dei forti picchi di ansia o delle forti paure nei confronti del Covid o nei confronti di quello che potrà succedere, quindi una paura un po' più vaga, allora sarebbe meglio guardare e lavorare prima di tutto sulla propria ansia, cioè sulla propria emotività nei confronti del mondo circostante, in modo da avere un duplice beneficio. Il primo è quello che il genitore avrà per se stesso come persona e il secondo è quello che avrà come genitore, perché è chiaro che in questa questa ipotesi, in questa situazione, se il genitore è il primo a lavorare sui propri contenuti, di riflesso ne andrà anche il figlio o la figlia che si sentirà più sereno, più tranquillo, più protetto dall'ambito della famiglia o del contesto genitoriale. Però è anche possibile un'altra strada, cioè che il genitore non abbia questo alto livello di paura o di ansia, sì, avrà dei livelli di ansia, diciamo, nella norma rispetto a una situazione che chiaramente comporta un'attivazione, ma non al punto da trasferire questa paura, queste insicurezze al bambino. Beh, è chiaro che il bambino comunque entra in contatto anche con altri adulti in maniera diretta o in maniera indiretta, insegnanti, altri parenti, oppure gli adulti che parlano al telegiornale e sente quest'ansia e quindi anche se la famiglia risulta essere in quel momento un ambiente confortevole, un ambiente protettivo, comunque la paura nell'aria venga percepita dal bambino o dalla bambina e che quindi lo percepisca ugualmente, provi questa emozione. Sentono di questo covid, di questo fantasma invisibile che spaventa i grandi che li circondano e con cui stanno appunto a contatto diretto o indiretto. E ho detto fantasma non a caso, ho detto fantasma perché per antonomasia è l'immagine di qualcosa che abbiamo difficoltà a percepire ma che è lì nel buio per incuterci timore per spaventarci o forse per farci del male. Ebbene, ora la paura funziona esattamente così, la paura funziona come un fantasma, cioè più fuggiamo dal fantasma, più allontaniamo la paura, più questa si trasforma in panico e questo vale chiaramente per la paura da covid come per qualunque altro tipo di paura che possiamo affrontare nelle nostre vite. Ma al contrario se andiamo incontro al fantasma, se tocchiamo il fantasma, il fantasma sparisce. La paura guardata in faccia diventa coraggio. Così la strategia più funzionale da seguire è sicuramente quella di parlare dell'argomento e non nasconderlo, non cercare di rassicurare il bambino dicendoli no ma tranquillo, andrà tutto bene, è una cavolata, passerà subito. No, bisogna parlare dell'argomento, bisogna far sì che il contenuto di questa paura possa essere presentato al bambino. ma chiaramente, come in tutte le circostanze, non è mai il cosa facciamo ma il come lo facciamo ad avere importanza. In questo caso l'aspetto del come lo facciamo implica che i contenuti che andiamo a proporre al bambino o alla bambina siano emotivamente digeribili, emotivamente assimilabili, emotivamente comprensibili. Non possiamo immaginare ovviamente di prendere un bambino di 6, 7, 8 anni, metterci a tavolino con lui e spiegargli che il covid è un virus che si propaga in questo modo, che ha fatto 8 vittime. Chiaramente sarebbe un contenuto troppo eccessivo perché il bambino non riesce a comprenderlo appieno, non riesce a capirlo, non riesce a metabolizzarlo, se non come un qualcosa di cui avere molta paura. Quali sono alcune strategie che possiamo seguire? Se abbiamo bambini molto piccoli, quindi parliamo di 4, 5, 6, 7 anni, fascia di scuola dell'infanzia e primi anni della scuola primaria, una buona strategia può essere quella di disegnare insieme delle storie. Storie in cui i protagonisti, che possono essere mamma, papà, o il bambino, la bambina, o il nonno, la nonna, o dei parenti, magari se non sono infermieri, medici, è ancora meglio in questo caso, incontrano questo covid, questo nemico brutto e cattivo che, come in tutte le storie, fa i dispetti o cerca di far del male ai protagonisti. E in alcuni casi, in maniera lieve, ci riesce. Però poi i protagonisti armati di coraggio, dopo aver affrontato le loro vicissitudini, riescono a sconfiggere questo nemico brutto e cattivo, che è un po' la dinamica di qualunque storia. C'è un protagonista che affronta un nemico, ma per arrivare al nemico deve affrontare delle difficoltà. È importante l'elemento della difficoltà, non può essere mamma e papà vedono il covid, schioccano le dita, il covid sparisce. Ci vuole l'elemento di difficoltà che provoca appunto disagio al protagonista, provoca una momentanea sofferenza al protagonista che però alla fine affronta la difficoltà e ne esce vincitore, non soltanto dalla battaglia ma anche da una crescita personale. In alcuni casi disegnare queste storie può essere complicato perché mio figlio o mia figlia non vuole disegnare, o perché è un po' più grande e quindi percepisce il disegno come un'attività troppo infantile, o per mille altri motivi il tempo non è sufficiente, o qualunque altra sia la motivazione. Bene, in questo caso una valida alternativa riguarda sempre il raccontare storie, ma in forma verbale, non disegnando. Quindi raccontare al bambino queste storie sempre diverse, dove diversi protagonisti si scontrano contro questo nemico invisibile che si nasconde nei vestiti, si nasconde nell'aria e cerca di far male alle persone. Se invece i nostri figli sono un po' più grandi, quindi stiamo parlando già di ultimi anni della primaria, 10 anni ad esempio, o già secondaria di primo grado, quindi quella fascia degli 11-13 o ovviamente ancora più grandi, allora raccontare la storia può essere percepita come una modalità un po' troppo infantile e allora in quel caso è giusto parlare con loro, sempre. Ovviamente andando a dosare i contenuti, andando a normalizzare i contenuti e soprattutto a rendere i contenuti cognitivamente ed emotivamente assimilabili e digeribili. Per conclude però, c'è un aspetto che mi preme sottolineare. Come ho detto inizialmente, se la paura prima di tutto è tua, cioè se tu, genitore, sei quello che prova maggiormente ansia, maggiormente paura, che sente lo sconforto di questa situazione, allora la cosa migliore è quella di iniziare a fare un lavoro su di te, perché qualunque strategie adotterai, siano quelle che ti ho suggerito, siano altre strategie, suoneranno finte al bambino che ti sta ascoltando, perché comunque percepirà che il tuo dire stai tranquillo, sei sereno, è falso, perché mentre lo dici trasudi quella paura e quindi prima di tutto sii tu l'esempio. Cerca di portare avanti una strategia, essendo tu in prima persona, abbastanza tranquillo. Mi preme sottolineare un aspetto. È ovvio che in questo periodo storico, in questo contesto in cui ci troviamo al momento, la paura, l'ansia, sia una delle emozioni normali. Non stiamo parlando di un'ansia che non è motivata, non stiamo parlando di una paura che non è motivata, quindi è normale provare queste emozioni. Il problema nasce nel momento in cui l'emozione o la preoccupazione, in questo caso, diventa eccessiva, al punto da terrorizzarti o da bloccarti o da farti vivere dei forti attacchi di ansia che ti bloccano in alcuni contesti. Bene, per questa puntata è tutto. Io ti invito a lasciare un commento se hai provato queste strategie o se ne hai utilizzate delle altre. Cercheremo di risponderti se possibile. A condividere il video con altri genitori che possono trovare utili le cose di cui abbiamo parlato e soprattutto a cliccare sulla campanellina per iscriverti al canale, così da rimanere aggiornato e ricevere la notifica ogni volta che uscirà un nuovo video di questa rubrica. Ciao e alla prossima! Grazie a tutti!